Radio Piccad Il nostro quotidiano e la nostra esistenza misera è anche un po' meschina su questo pianeta, su questo pianeta. Scopriremo insieme il perché di tante oscure conseguenze. Il motivo di alcune nostre dubbiazioni. Avremo finalmente la risposta su enigmi da sempre, irrisolte, irrisolte. Nella puntata di oggi scopriremo perché chi fa da sé fa per tre. Sì, scopriremo perché anche gli angeli mangiano fagioli e scopriremo tutta la verità sugli orsacchiotti di pezza che dondolano sotto lo specchietto retrovisore in macchina di ceccona. Scopriremo la verità sul vero contenuto dei sofficini e il rischio nella raccolta a terra di una banconota da 50 euro al gay village. Indagheremo sul perché della nuova gestione della tavola calda in via Roma e conosceremo finalmente la vera natura dei buchi neri. Dei buchi bianchi e dei buchi di culo. Buchi di polo! Ah, sì. Non buchi di culo, Enzi. Buchi di polo. Comunque, questo è molto altro ancora tra poco. Non prima di aver ringraziato il nostro sponsor, Finanziaria Strozinagos. Sei protestato? Senza lavoro? Casa già ipotecata e la mattina devi uscire di casa con barba e baffi finti. Corri subito negli uffici della Strozinagos. Verrai accolto e assistito con competenza e generosità dallo staff che in pochi minuti sarà in grado di erogarti qualsiasi cifra a tassi incredibilmente vantaggiosi. Ti basterà portare con te foto dei tuoi figli e di tua moglie. E in caso, solo su richiesta, qualche foto di parenti stretti e il gioco è fatto. Finanziaria Strozinagos. Mai stato così semplice ottenere il tuo finanziamento. Questo mese, incredibile promozione. Per tutti i finanziamenti sopra i 100.000 euro, in omaggio l'esclusivo orologio da polso con rilevatore satellitare GPS, dotato di cinturino intelligente, autosaldante, ammovibile a vita dopo la prima indossatura. L'orologio satellitare permetterà alla Strozinagos di rilevare la tua posizione ovunque, per fornirti assistenza in qualsiasi momento e rintracciarti in tutto il mondo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non è fantastico? Anche per oggi, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Alla prossima puntata di Paranormal Channel, insieme al vostro... Anzi, The Pirate.